Buongiorno a tutti, sono Gzegos Moskva, oggi domenica 9 aprile e noi andiamo come di solito con le nostre analisi in chiave Icimoku, sia per la settimana prossima che riguardando quello che abbiamo ipotizzato la settimana scorsa. Prima di passare alle analisi volevo sottolineare che questa diretta è il solo ed esclusivo scopo didattico e formativo, pertanto lo spettatore esonerà questo webinar e chi lo ha prodotto nei limiti di legge da qualsiasi responsabilità ad esso connessa o derivante. La settimana scorsa ci siamo lasciati con dei interessanti scenari, il primo scenario riguardava l'oro, abbiamo detto che se il prezzo riesce a superare la linea Tenkan e tirare dietro la linea Tenkan, la linea Tenkan deve essere superata e la linea Tenkan tirata dietro, abbiamo delle buone probabilità che salirà almeno fino a questo punto per poter eventualmente chiudere con un buon profitto o addirittura, qui c'era un'ipotesi, di un rialzo del prezzo molto più alto. Come abbiamo visto effettivamente il prezzo ha fatto tutto quello che ci siamo aspettati, noi l'abbiamo lasciato prezzo più o meno in questo punto, non è stato assolutamente superato, superata la linea King Jun, una volta superata la linea King Jun ci siamo trovati già dentro la Kumo e questo sappiamo cosa significa, invece uscita dalla Kumo come segnale era un segnale con un stop plus insensato, più di 250 pips circa, perciò assolutamente da evitare, cosa potevamo aspettare? Aspettare un altro segnale, rialzista eventualmente, che si è presentato perfettamente in tempo come il segnale delle tre linee, prezzo Tenkan, King Jun, Senkouspan A. Se qualcuno aveva un po' di pazienza entrato con questo segnale, adesso vediamo un po' da vicino, io sono stato fortunato, ho usufruito di questo segnale, con un stop plus relativamente piccolo, ma molto piccolo, perché con un stop plus sotto la linea King Jun del tipo 20 pips ci si poteva ipotizzare un buon guadagno, come riscrazio prima di tutto quello che insegno sempre, la cosa molto più importante nel trading è l'aspettativa della vincita rispetto a quella di perdita. Qua ci si poteva guadagnare molto di più rispetto anche a quattro volte, Purtroppo, in questo caso, uscita è stata molto intuitiva, non ci si poteva aspettare che il prezzo si rialzasse più in alto, semplicemente perché non c'erano delle resistenze particolari, non c'erano dei take profit da prendere, qui, come vediamo, il prezzo non chiude sul giornaliero, attenzione, un attimo solo, tolgo magari questo Fibonacci modificato, come vediamo sul giornaliero, la cosa molto particolare, il prezzo non è chiuso mai, non si è chiuso mai sul giornaliero, sopra il take profit, perciò, come ho detto, chiusura intuitiva, non avevamo nessun tipo di messaggio da parte di Cimocco che, attenzione, questa è zona dove potrebbe succedere qualcosa, il prezzo potrebbe chiudere, un po' più avanti, più in alto, sì, qua in questo punto, no, perciò, il prezzo comunque ci ha permesso di guadagnare abbastanza bene, qualcuno, se è entrato qui, poteva guadagnare già contentandosi di quattro volte quello che ha rischiato. Ok, l'altro, l'altro elemento che ci interessava la settimana scorsa, era il DAX, ci siamo occupati di DAX, anche se sinceramente io lo reputo un strumento molto pericoloso, molto pericoloso, ci si può guadagnare tanto, ma ci si può anche perdere tanto, il nostro il nostro scenario prevedeva, non altro, che un rimbalzo da tutti i take profit che sono stati raggiunti della Honda N123, qua c'era quella masso dei take profit, e adesso vediamo, ma era, come ho detto, una cosa più speculativa che è legata a una vera e propria strategia di Cimocco, almeno che non prendevamo in considerazione la lontananza dalla linea Tenkan, e questo si potrebbe eventualmente prendere in considerazione, ma non è sufficiente per entrare in operazione, e come vediamo qua, effettivamente, questo masso di take profit ha funzionato, ha respinto il prezzo, ha fatto un bel momento di correzione per adesso, poi vediamo se questa sarà solo la correzione e andiamo ancora in avanti, sinceramente penso di no, oppure era il primo segnale di un piccolo impulsino e poi continuiamo in ribasso. Un'altra coppia che ci interessava la settimana scorsa, che ci ha dato in precedenza molte, molte soddisfazioni, è la coppia dollaro australiano contro dollaro canadese. In questo caso, come vediamo qui, il nostro scenario è stato quello ribassista, con un impulso verso la linea King Jun, correzione, continuazione dell'impulso, con almeno, almeno, arrivo la Kumo che sarebbe lo stesso, cioè il nostro target N, corrisponderebbe al nostro target N. Vediamo adesso cosa è successo sul grafico, vediamo che effettivamente il nostro impulso, la correzione, continuazione dell'impulso, hanno agito perfettamente, il prezzo non solo che è arrivato alla Kumo ma è entrato anche dentro molto violentemente, guardate sempre attenzione il prezzo giornaliero che si chiude perfettamente su un take profit, in questo caso abbiamo superato il take profit della Honda V, perciò abbiamo delle buone probabilità che il prezzo dovrebbe scendere ancora un po', almeno fino a un take profit e se non più avanti. Vediamo la settimana prossima, se non ci sono delle correzioni, movimenti laterali, visto che si stanno avvicinando le feste, sicuramente questo influerà non poco alla volatilità del prezzo, dei prezzi, perciò possiamo attendere anche un po' di movimenti strani non perfettamente riconoscibili dall'analisi tecnica dall'Icimoku. Per quanto riguarda questa coppia ci si poteva entrare perfettamente con un segnale di uscita dalla Kumo con un stop plus sensato neanche grande perciò adesso vediamo subito un stop plus sensato dalla uscita che sarebbe di tipo 40 pips e come ho insegnato sempre come seguire l'operazione all'arrivo al secondo take profit spostiamo il break even c'è stop plus al break even all'arrivo al terzo take profit il nostro stop plus è la linea King Jun e vediamo adesso come andranno le cose comunque in questo momento già siamo in un forte positivo ci si poteva guadagnare ancora qualcosa di più invece per quanto riguarda la settimana prossima penso che come ho detto prima io prendo le ferie non lavoro più questa settimana con i grafici non investo perché ci sono molte cose in ballo la guerra in Siria attentati in Europa le feste soprattutto perciò vediamo se la situazione si calmerà un attimino creando sottofondo una specie di base per dei movimenti un po' più lunghi più belli dei trend che durano almeno un mesetto per quanto riguarda la mia percezione di mercato per questa settimana ma giusto come curiosità giusto come allenamento come intenzione di conoscere meglio i cimoku dobbiamo esercitarsi sempre propongo di vedere allora prima di tutto continuare con il dollaro australiano contro canadese per vedere come finisce la storia poi la mia proposta è quella di dollaro nuovo zelandese contro dollaro canadese che qua siamo in una situazione particolare cioè attenzione mai il take profit nt non è stato superato perciò prima candela che eventualmente chiude qua abbastanza decisamente sotto dovrebbe dare un impulso per un arrivo verso basso secondo sempre con dollaro nuovo zelandese contro l'americano sempre un ribassista una volta rimbalzato adesso possiamo cercare di creare dei nuovi scenari dove è finita la prima onda cominciamo a creare un scenario della seconda onda guardate con quale precisione il prezzo si ferma in determinati posti e se questo invece lo supera lo supera anche questo possiamo sperare che i prossimi take profit saranno alla portata di mano che secondo la scuola di Sasaki è questo invece scenario del tutto sensato e corretto anche così vediamo poi quale di questi scenari si verificherà in futuro ovviamente adesso questo non è il corso perciò non parliamo di onde come si sono disposte se sono state fatte in modo giusto o meno giusto questi due scenari ovviamente ho preso dai miei colleghi del forum su Vision Forex nuovo zelandese contro canadese e nuovo zelandese contro dollaro americano qua Luca ci sta avvisando che effettivamente abbiamo una bella occasione per la discesa speriamo che sia così io ripeto questa settimana sono fuori dei mercati ma sono dei scenari molto probabili un'altra descrizione molto interessante era quello su euro contro dollaro che ha fatto Massimo 7 aprile prima ancora delle notizie importanti che ci hanno un po' scombussolato il mercato e vediamo qui dei scenari possibili effettivamente il scenario ribassista è stato molto rispettato cioè arrivato il prezzo perfettamente al punto dove doveva arrivare si è fermato sulla linea Senkouspan B qua abbiamo la nuvola rialzista la Cicouspan dall'altra parte è un certo movimento ABC A B e C che anche questo è stato perfettamente concluso con arrivo al take profit perché se guardiamo il movimento A B e C ok scusate ancora qui non è preciso A B e C esatto adesso vediamo la precisione della linea del take profit che è praticamente arrivata al Pips ha rimbalzato la linea A5 nello stesso modo poi se guardiamo i cicli giusto per curiosità questo ciclo dovrebbe partire il giorno 28 marzo e se prendiamo il nostro foglio EXER per calcolare per calcolare i cicli qui possiamo effettivamente inserire il giorno 28 marzo come giorno di partenza il giorno 7 di aprile come punto di arrivo 7 di aprile come punto di arrivo perciò per eventualmente le persone che ancora non sono convinte che i cicli funzionano che le onde funzionano questa un'altra ennesima dimostrazione come sono perfetti in questo caso come ho scritto anche come risposta a Massimo durante sul nostro sul nostro forum non ci rimane che aspettare proprio lo sviluppo della situazione che in questo momento siamo arrivati al siamo arrivati proprio al capolinea come ho scritto e questa cosa potrebbe funzionare poi quando il prezzo ci dirà che cosa intende di fare un nuovo impulso con la correzione e continuazione oppure una correzione con continuazione dell'impulso in questo senso ovviamente sappiamo benissimo poi come distinguere impulso dalla correzione e questo lo insegno durante i miei corsi per oggi è tutto la settimana prossima non ci sentiremo per via delle feste poi eventualmente se ci sono delle domande scrivete tranquillamente sul forum di Visionforex ho direttamente il mio email che è bitrader.ex chiocciolagmail.com grazie per l'attenzione e ci sentiamo tra due settimane